Forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento interessano dalla notte scorsa la Sicilia orientale dove è caduta anche la neve. Oggi, dopo l'allerta rossa per il rischio meteo idrogeologico e idraulico diramato dalla protezione civile, molte scuole, parchi pubblici e cimiteri sono rimasti chiusi. In diversi comuni sono stati attivati centri operativi comunali e i sindaci invitano a uscire solo in caso di necessità. Allagati lungomari di diverse città costiere ioniche della Sicilia, porti e strade d'accesso alle zone marinare delle isole eolie che al momento non hanno collegamenti, sono invase dall'acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Le isole minori dell'arcipelago sono isolate da ieri. Spazzaneve sono in azione sui nebrodi con spargisale anche su Montelauro dove è stata registrata la presenza di ghiaccio e sulla statale 124. L'Etna è innevata anche a quote basse. A Catania il temporale e il forte vento non hanno per il momento avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, ma scuole e università sono chiuse. In provincia si registrano difficoltà nei collegamenti stradali per la pioggia e il vento. Un blackout elettrico negli impianti di adduzione e pompaggio di acqua potabile di San Nicola, causato dalla pioggia caduta abbondante a Siracusa, ha creato problemi alla distribuzione dell'acqua in città. Sempre nel capoluogo Aretuseo i volontari della protezione civile regionale monitorano il livello del torrente Cifalino che si sta ingrossando. A Ispica, nel Ragusano, sono state attivate squadre composte da polizia municipale, tecnici e volontari.